e andiamo a mettere la nostra schiuma da barba non lo riuscivo prima ho già provato quindi ho già rotta andiamo già provato a fare un miscuglio tra questo e quello al cocco il balsamo è il balsamo ciavone il cacchio si chiamava il coso vela i capelli lo shampoo non mi veniva il nome quindi andiamo a mettere poca schiuma da barba io sono boh schiuma da barba figaro nuova e non esce ok forse troppo male che fa ce la mettiamo mettiamocela un po qua dentro e dopo ce la rimettiamo perché poca la volta ci va la schiuma sbagliato a metterla così no la schiuma è densissima comunque mescoliamo comunque dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto per far incorporare la schiuma metto un po di schiuma qua dentro forse comunque l'alto fa un altro slime non lo so poi off camera mi sa mescoliamola un po si si compatta va bene comunque la lavora uso dopo che comunque non va dentro l'acqua quindi per diluirlo metto questo che mi sembri più liquido non lo so diamo questo un po di questo ha fatto per la base quindi la base della base è diventato bianco come il latte ok perfetta con schiumosità mi sembra abbastanza buona io ne andrei a mettere un altro po cerco di fare giusto dieci minuti di video quindi sto sbrigando perfetto ora è perfetta la schiuma non ho mai messo comunque la schiuma da barba perfetta di più o di meno facciamo un altro po di questo facciamo un bicchiere intero di slime che comunque guardate cioè si può scrivere con l'impasto andiamo a fare la barba con la schiuma da barba cinese ok vedo qua la schiuma da barba dalla cosa dell'occhio mi fa paura ok no la vedo ancora qua mi sono messo sulle siglia aiuto perché mi sono voluto mettere la schiuma da barba e non tutte le mani rotte e con cacchina tolgo la schiuma dalle mani vabbè sporcherò tutti i prodotti aspettate devo fare una cosa con la schiuma da barba e giro un attimo in mano cosa ne verrà fuori da questo schifo non si sa accontentati però il video tutto così adesso sto usando il telefono come se fosse uno specchio però ok perfetto comunque finito il video cinque minuti non servivano niente però ok fate conto che faccio cinque minuti e metto altra schiuma da barba date quanta me la spalmo bene bene in mano così e me la metto sui capelli non è vero ma sai che bello comunque ora mi farò la barba non è vero mi laverò la faccia e mo come faccio a stoppare ma io sono troppo forte vedo due cose incredibili schiuma da barba uno qua uno là però ok con la coda del loccio comunque io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani come un nuovissimo video oh mio dio farà fame scusa ma che cazzo sarà questa schiuma da barba